Musica Un bene ritrovati cari telespettatori e telespettatrici Eccoci con l'edizione del nostro telegiornale delle 12 e 30 Ovviamente l'augurio di una buona domenica Dopo la variante inglese del Covid è emersa anche quella sudafricana Che pare avere mutazioni più consistenti Il timore è che gli attuali vaccini possono essere meno efficaci Ma il mondo della medicina è ottimista La campagna vaccinale contro il Covid-19 è in corso di svolgimento Per operatori sanitari e ospiti delle case di riposo A rendere più complicata la situazione però ci sono le varianti del virus Che potrebbero compromettere del tutto o parzialmente la copertura Al momento tuttavia pare non esserci questa possibilità Tutti i virus cambiano in continuazione E quindi la loro riconnessibilità da parte degli anticorpi può variare Nel caso del coronavirus è fatto più o meno come questa pallina da massaggio Ha queste puntine che si chiamano spike E contro queste puntine che si attaccano gli anticorpi Una volta attaccati gli anticorpi Le cellule, viene bloccato il virus Le cellule lo riconoscono, lo distruggono Impediscono che si diffonda Se cambiano queste puntine Gli anticorpi non lo riconoscono più Allora queste puntine, questi spike In realtà cambiano in continuazione Nella stragrande maggioranza di casi Questo si è visto almeno quasi sicuramente Per la variante inglese Viene riconosciuto ancora dagli anticorpi E quindi dai vaccini Qualche timore in più lo genera un'altra variante Isolata recentemente Adesso c'è questo punto di domanda Che è stato posto da alcuni Uno scienziato in particolare Su questa variante sudafricana Che si chiama E484K Che dice che le mutazioni di queste puntine Sono state superiori rispetto a quelle inglese Quindi c'è un punto di domanda Funzionerà o non funzionerà il vaccino In realtà in questo momento non si sa ancora Dovrebbero essere mutazioni veramente molto importanti Per non farlo più funzionare Quindi in questo momento Diciamo la quota di scienziati ottimisti È superiore a quella degli scienziati pessimisti Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi Si è sbilanciato in un impegno a parole In merito ad interventi da fare per la sanità collinare Il sindaco di Treppo Grande Emanuela Celotti chiede però i fatti Ci sono diversi temi caldi da affrontare concretamente Quello dei primari Ne mancano 5 all'ospedale di San Daniele Ma anche la chirurgia ortopedica attualmente è sospesa I reparti di medicina convertiti in covid Il numero degli anestesisti La nomina del direttore del distretto Sentiamo Il tema dei primari Ne mancano 5 Alcuni sono già andati in quiescenza Alcuni sono prossimi ad andarci E ancora non sono partiti procedimenti per la sostituzione Oggi c'è stato un impegno da parte del vicepresidente E monitoreremo insomma che in tempi brevi Questo impegno si trasformi in una realtà concreta L'ordine del giorno però riporta una serie di temi molto ampia Si tratta della chirurgia ortopedica Che attualmente è sospesa Della ripresa dell'attività dei reparti di medicina e di chirurgia Attualmente convertiti in reparti covid Si tratta di scelte di garanzia per l'ospedale anche nel futuro Quindi dopo la conclusione dell'emergenza sanitaria Che ci auguriamo tutti possa arrivare al più presto E in particolare del potenziamento del numero degli anestesisti Perché dalla loro presenza dipendono le liste d'attesa di tutta l'attività chirurgica Si tratta della nomina del direttore di distretto Che è vacante ormai da moltissimo tempo Si tratta di avviare un confronto serio All'interno dell'assemblea dei sindaci della collinare E dell'assemblea d'ambito E poi con la regione e con l'azienda sanitaria Rispetto a quello che vogliamo per il nostro ospedale nel prossimo futuro E anche per la sanità di territorio Quindi per tutto il sistema sociosanitario E' una presa di posizione forte Ma che credo assolutamente necessaria Perché alcuni temi sono rimasti in sospeso ormai per troppo tempo E i sindaci devono iniziare ad occuparsene E a sollecitare anche quella che è una risposta Da parte della regione e da parte dell'azienda Incidente stradale a Premariaco Lungo strada qui lei ha per causa in corso di accertamento Da parte dei carabinieri della compagnia di Cividale Una ragazza di vent'anni ha perso il controllo dell'auto Nell'impatto è rimasta incastrata Incastrata all'interno dell'abitacolo Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova Ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza E i vigili del fuoco La giovane è stata liberata e trasportata In codice giallo L'ospedale Santa Maria della Misericordia Di Udine Ha riportato serie lesioni Ma non è in pericolo di vita L'auto, una Ford Fiesta Ha riportato ingenti danni Voltiamo pagina A Udine partiranno nei prossimi giorni Diverse opere pubbliche In questi giorni infatti si stanno consegnando Gli appalti alle imprese che dovranno sostituire il Porfido In diverse strade del centro cittadino E realizzare le prime nuove fermate degli autobus Concepite per garantire la massima sicurezza Sia ai fruttori dei mezzi pubblici Che agli automobilisti Stanno per partire in città diversi cantieri E proprio in questi giorni vengono siglate Praticamente le assegnazioni alle ditte Che dovranno realizzarli Intanto da che cosa partiamo? Partiamo praticamente dal rifacimento Di 12 punti del trasporto pubblico locale Chiamate pensiline Che vengono trasformate Per renderle più percorribili Tra virgolette Nel senso di essere a vantaggio Dei disabili e anche delle persone Che sostano, che attendono l'autobus E che avranno una barriera Che li aiuta anche a essere più protetti Soprattutto anche per fare in modo Che in certe parti il marciapiede Non sia occupato interamente della pensilina Ma ci sia anche il passaggio Delle carrozzine Delle persone che vogliono transitare I prossimi mesi partiranno Quattro grossi lavori Di rifacimento del Porfido Che sono via Gemona Via Vittorio Veneto Più di metà via Via Grazzano Metà via che è rimasta Non oggetto di intervento Un anno e mezzo fa E mi manca via superiore Un altro tratto di via Dove c'è il Porfido Che verrà risistemata completamente Accanto a questo devo dire Che adesso sono appena completati I lavori di rifacimento Dell'acciottolato di via Lirutti Che si è andata a vedere Ha riqualificato l'intera via E anche finito oggi I lavori in via Margheret Laterale di via Cossignaco Che è una via storica Cosiddetta via degli impiccati Che ha la sua storia di Udine Alle 15 al Friuli L'Udinese sfida il Napoli Dobbiamo dare fondo a tutte le nostre energie Dice Gotti Che schiederà un 3-5-1-1 Con Pereira alle spalle di Lasagna È ovvio che dobbiamo Come di consueto Avere consapevolezza Di quelle che sono le nostre qualità E anche i nostri limiti Dobbiamo conoscere Pregi e difetti dell'avversario E mettere tutto quello che abbiamo Oggi è molto importante capire Chi ha ancora più energie Rispetto alle partite che sono state fatte Mentre tornavamo da Bologna In Pullman abbiamo visto insieme La partita del Napoli Una partita anomala Anomala di quelle estreme Oserei dire Perché il numero di occasioni E il tipo di occasioni Che ha avuto il Napoli Per vincere la partita E con la beffa del perderla In quel modo lì Raramente si vedono in Serie A C'è una tale disparità di possibilità Che poi vede penalizzata la squadra Che ne aveva avute Molte, molte, molte di più Raramente si vede Quindi di sicuro Rispetto a quello che le dicevo prima Rispetto alle qualità Del nostro avversario Che li ha messi in mostra Anche nella partita Con lo Spezia Cercheremo di andare A toccare tutti i nervi scoperti Riprendersi tutti i vantaggi Che possiamo Ancora una vittoria per le Eagles Nella sesta giornata di Serie B La web gesteco Cividale Ieri sera nel fortino Del capoluogo Ducale ha battuto Per 83 a 75 L'Unione Basket Padova Quarta in casa La classifica Volge al bello Adesso chiaramente Per svoltare questo campionato In cui cominciamo a diventare una squadra In cui cominciamo a assumere Un'identità definita Direi che a tratti Facciamo anche una buona Palacanestro Soprattutto abbiamo iniziato a difendere Come vuole il nostro coach Oggi il terzo quarto È stato strepitoso Contro una squadra A cui faccio i complimenti Che ha un reparto sotto Veramente interessante Ben allenata Combattiva Complimenti a Padova E Bocca a lupo Per il processo della stagione Ma noi guardiamo a noi E devo dire che la squadra Cominciamo a diventare una squadra seria Sono molto contento Di aver vinto una partita complicata Perché loro sono forti Sono un po' sottovalutati Perché per il fatto che Non hanno giocato tante partite Hanno una classifica povera E invece sono una squadra Molto competitiva E fortissima nei lunghi E quindi essere riusciti Comunque a stare sempre Praticamente sempre Con un piccolo vantaggio Che incertivamente È diventato anche un bel vantaggio Che dove sia una buona cosa Sapevamo che loro Che loro sono una squadra Molto tosta Hanno giocato solo due partite Questa era la terza Però hanno fatto una grande vittoria Contro Mestre E quindi E quindi Volevamo fare questa partita qua Abbiamo fatto fatica all'inizio In difesa Perché loro sono Corno tanto Sono intensi Poi abbiamo aggiustato due cose Quindi siamo riusciti A prendere una vittoria importante Ieri alla Bella Italia di Lignano Si è tenuta L'assemblea elettiva Della Lega Nazionale Dilettanti Regionale Per la prima volta Il Presidente è stato eletto All'unanimità L'intervista Al Bella Italia di Lignano Oggi è stato votato Il Presidente Del Comitato Regionale Della Lega Nazionale Dilettanti Sarà ancora Ermes Canciani Per il quadriennio 2021-2024 Voto unanime Prima volta nella storia Presidente Innanzitutto Il significato Di questa presenza E di questo tipo di voto E poi Considerazioni sul futuro Ha detto Non sappiamo Quando ripartiremo E poi ha parlato Assolutamente Di riforma dello sport Sì Innanzitutto Desidero ringraziare Tutti i Presidenti Che sono arrivati fin qui Un dato di affluenza Assolutamente Insperato E questo significa Il grande attaccamento Che i nostri dirigenti Hanno Il nostro amato calcio È un segnale Molto importante È un segnale Che ci deve Dare ulteriore coraggio Ulteriore forza Per riprendere Questo percorso Che si è interrotto Alla fine del mese di ottobre E dobbiamo fare di tutto Veramente per riprendere A giocare Per riprendere Ad andare sui nostri campi Le prime cose Che faremo Sarà sicuramente Quella di Andare ad assegnare Le deleghe Al nuovo consiglio Direttivo eletto A nominare i nuovi delegati E cominceremo Da subito Non dico da domani Ma sicuramente dopo domani A studiare Questa riforma Dei campionati Come dicevo Perché è imprescindibile In situazioni come queste Pensare di avere Ancora dei format Decisamente Obsoleti Ho raccolto con molta attenzione Quelle che sono state Le considerazioni Che i presidenti hanno fatto E ne farò tesoro Quindi Una battuta lampo Se quattro anni fa L'obiettivo principale Che è stato realizzato È stata la sede Questa volta Sarà riforma Sì Diciamo che questo In questo momento Che questo È il principale obiettivo Che noi abbiamo Mi piacerebbe però Come ho detto Che questa pagina bianca Del numero 6 Del progetto Sia riempita O venga riempita Dai presidenti Delle società Con indicazioni Suggerimenti Consigli Rimproveri Per quanto riguarda La nostra attività Ma soprattutto Con lo sprone A fare sempre meglio Sempre di più Per il futuro del calcio Bene Termina qui L'edizione del 12.30 Del nostro telegiornale regionale Vista l'ora Vi auguro un buon appetito Un saluto alla regia Di Tiziano Campigotto Alla prossima Arrivederci Alla prossima